Il candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino desidera fare gli auguri di Pasqua ai suoi concittadini. Buongiorno cari concittadini, siamo in prossimità dell'inizio della campagna elettorale e con vero piacere accettate i miei auguri di buona Pasqua e di buona Pasquetta a tutti quanti voi. Ci apprestiamo a fare una campagna elettorale, dal 15 di aprile voteremo il 14 e 15 di maggio e sono certo che farete del vostro meglio. Fate le vostre scelte, andate a votare. Io mi ricandido con lo stesso stimolo, con la stessa attenzione e con lo stesso spirito di servizio di sempre. Auguri, buona Pasqua a tutti. Grazie a tutti.